Amici telespettatori, su Viva la Puglia Channel, l'occhio di Abate, venerdì, una puntata davvero sensazionale. Indovinate un po' che avremo, il governatore di Puglia, Michele Emiliano. Presidente, di cosa parleremo? Di tutto o di più? Di tante cose, presenteremo il programma con parole semplici, in modo tale che tutti possano comprendere ed eventualmente replicare sulle cose che possono essere fatte meglio o approfondite con ancora maggiore attenzione. Sale e pepe. Sale e pepe, sale e pepe. Bene, venerdì, ore 21, l'occhio di Abate, su Viva la Puglia Channel, non mancate.